Il presidente francese Emmanuel Macron ha portato all'ex Repubblica Sovietica di Moldavia un triplice messaggio sulla guerra in Ucraina. Ammirazione per l'accoglienza riservata ai profughi, sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale moldave e solidarietà di fronte alle difficoltà che il paese sta attraversando. Quello che sta succedendo, ha detto Macron, ci riguarda tutti. Quanto sta accadendo in Ucraina, a poche centinaia di chilometri da qui, costituisce una minaccia per la stabilità di tutti noi e comporta già profonde conseguenze sulle nostre vite e le nostre economie, e settimane e mesi a venire che saranno estremamente preoccupanti e sfidanti. La Russia si è impegnata in un tentativo di sfidare i principi fondamentali su cui si basa la nostra sicurezza collettiva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poche ore prima, durante la visita ai soldati francesi della base NATO in Romania vicino al Mar Nero, Macron aveva ribadito la necessità di negoziati tra Ucraina e Russia. La sua visita in Ucraina è attesissima e potrebbe aver luogo nel corso della settimana con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier italiano Draghi.